E' l'unico è qui in Londra! Ben ritrovati amici nel mondo di Queen Car, in via Susa 52 è a pianezza un mondo che si arricchisce di strepitose offerte e grandissime novità e anche questo mese una Mission Impossible. Sì tantissime offerte a chilometro zero, last minus con sconti fino al 40%, seguitemi nelle varie offerte, offerta last minus Tivoli in pronta consegna, benzina, benzina GPL, turbodiesel, tutti i colori, la volete bianca, nera, blu, rossa a partire da 14.900 euro, vi aspetto! Tivoli full optional, cerchio da 18, navigatore, retrocamera, tutta in pronta consegna, blu, bianca e questa qua è l'ultimo pezzo di masso a partire da 18.900 euro. Ultime vetture disponibili, la Space Star a partire da 7.990 euro, bianca, nera, viola, rossa, tutta in pronta consegna a partire da 7.990 euro. Ultimo pezzo disponibile, Kia Sportage a chilometro zero, solo da Quick Car, 20.900 euro. Ultima vettura è rimasta Hyundai Tucson a chilometro zero a partire da 20.900 euro, affrettatevi! Tutta la gamma Toyota a chilometro zero e le Yaris a partire da 9.900 euro. Opel Meriva, benzina e GPL a chilometro zero, oltre 7.000 euro di risparmi a partire da 14.990 euro. Opel Corsa 1.3 Multijet a chilometro zero a partire da 10.900 euro. Tutta la gamma Renault in pronta consegna a chilometro zero, vetture aziendali sul Cajar in pronta consegna a chilometro zero, Captur in pronta consegna con sconti oltre il 20% e in pronta consegna sempre l'allestimento Berlina e Megane della nuova Megane Station Wagon, ma soprattutto voglio far provare il nuovo Scenic a partire da 24.900 euro. Nuovo usato, chilometri zero aziendali, assistenza in sede, finanziamenti personalizzati, tutto questo e molto di più naturalmente da Queen Car. Avete visto offerte speciali, promozioni, offerte naturalmente limitate ai pezzi disponibili in pronta consegna, quindi assolutamente affrettatevi. L'indirizzo ce lo ricorda Fabrizio. Sì, vi aspetto a Pianezza in via Susa 52, ma soprattutto venite a provare la nuova Tivoli. La Tivoli è qui e a vostra disposizione per essere provata su strada, per apprezzarne fino in fondo le ottime qualità e prestazioni. L'indirizzo ancora una volta via Susa 52 a Pianezza. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!